Ignazio Moser nellarmadio con Cecilia, stavamo pensando a quello mai Ignazio Moser giustifica il gesto dellarmadio. La semifinale del Grande Fratello Vip è ancora in corso di svolgimento. . Nonostante ciò sono accadute già alcune cose molto interessanti, come la proposta di matrimonio da parte di Daniele Bossari alla moglie Filippa Lagerbac, la videochiamata tra Ida Espica e il figlio Arone lincontro tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. . La sorella di Belen ha fatto una sorpresa al fidanzato ancora in casa facendosi trovare nellarmadio. . I due si sono scambiati tenere effusioni e innumerevoli baci ma il loro incontro è durato poco. . Subito dopo Cecilia è rientrata in studio e Ignazio ha assistito al verdetto finale del televoto che lo ha visto protagonista insieme a Cristiano Malgioglio. . Ignazio è stato eliminato e raggiunge Ilari Blasi e la sua KQ in studio. . Quando la Rodriguez era ancora nella casa le infusioni tra i due in qualsiasi punto della casa non sono di certo mancate, tant'è vero che per avere un po' di privacy si sono rifugiati nellarmadio. . Questa scena ha scatenato i telespettatori, che subito hanno pensato ad un probabile rapporto consumato proprio nellarmadio. Ignazio Moser, ecco cosa è successo nellarmadio. . Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nelle ultime settimane sono stati al centro del gossip non solo per la loro storia d'amore nata improvvisamente. . I due, infatti, si sono nascosti nellarmadio della casa per dicono loro baciarsi. . Ovviamente dai telespettatori le immagini sono state interpretate in modi diversi e finalmente questa sera, dopo l'eliminazione, Moser ha spiegato cosa è successo realmente. . Molti, da casa, hanno pensato che in quellarmadio i due si sono spinti oltre un semplice bacio ma Ignazio ha dichiarato, stavamo pensando a quello ma non abbiamo fatto niente. . . In alcuni casi è in pensiero quello che conta, lo è anche in questo caso? Più che altro sarebbe curioso capire dai due il motivo per il quale si sono frenati. . . Sarà stato per le telecamere o per altri motivi a noi sconosciuti. . Tra Cecilia e Ignazio è amore?. . La storia tra Cecilia e Ignazio è nata in un contesto televisivo e in un momento abbastanza delicato per la Rodriguez. . . La modella infatti ha messo in dubbio la sua relazione con Francesco Monte e ha pensato a se stessa, decidendo di concedersi alle avance di Moser. . . I due fidanzati sembrano essere più affiatati che mai e il loro rapporto potrebbe consolidarsi ora che entrambi sono fuori dalla casa del grande fratello Vip. . . . .